Una pioggia di fondi europei a sostegno della pesca è in arrivo per i 15 comuni costieri che vanno da Agropoli a Sapri e questa la bella notizia riportata dal Galla Costa del Cilento attraverso la pubblicazione di 10 bandi di aiuti pubblici previsti per andare incontro alle reali esigenze del settore. Quattro i bandi destinati specificamente ai proprietari di imbarcazioni da pesca, ai pescatori professionali e alle piccole e medie imprese. Il primo è per i pescherecci, per il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene e della qualità dei prodotti. Il secondo per la commercializzazione e la trasformazione del pescato. Il terzo bando per la vendita dei prodotti ittici e il quarto per l'adeguamento e il perfezionamento dei servizi sulle aree portuali. Per il cambiamento vantaggioso delle imbarcazioni la somma messa a disposizione è pari a 240 mila euro. In questo caso i proprietari delle barche da pesca potranno pensare di sostituire i motori con altri meno inquinanti, potranno investire nell'armamento e nel riammodernamento. Per l'acquisto di attrezzature sono previsti 260 mila euro, tra le spese ammesse, quelle di costruzione o adeguamento di impianti, l'acquisto di attrezzature informatiche, di impianti con fonti energetiche rinnovabili e di beni immobili. Per la mercificazione all'ingrosso dei prodotti della pesca il budget a disposizione è di 80 mila euro con cui sono finanziabili l'adeguamento e la fornitura di macchinari e impianti specialistici. Ben 400 mila infine i fondi per i beneficiari del quarto bando, quello per la previsione di punti di sbarco e ripari di pesca pubblici o privati. Sei sono invece gli avvisi rivolti alle imprese di servizi per la promozione del settore pesca, per la cooperazione tra gruppi di zone di pesca e per le iniziative di educazione ambientale, per un totale di fondi pari a 1,6 milioni di euro. Per informazioni www.comune.castellabate.sa.it oppure 0974 96 74 38.